Musica Allora, oggi qui al Tribunale di Lamesia è un altro evento molto importante in materia giuridica e soprattutto destinato ai giovani. La stanza è molto bella, l'aula dove facciamo l'evento è molto bella perché è piena di giovani, di studenti ai quali soprattutto noi vorremmo mandare un messaggio molto importante. Si parla di bullismo e di cyberbullismo. Il fenomeno lo conosciamo bene noi adulti e sappiamo quali sono i grossi problemi del cyberbullismo e del bullismo però vorremmo che anche i giovani fossero educati particolarmente al fenomeno. Sono presenti scuole, sono presenti avvocati, sono presenti magistrati, sono presenti responsabili delle forze dell'ordine quindi credo che ci siano tutte le componenti importanti per sviscerare questo argomento in maniera completa e definitiva. Speriamo che da qui possa partire un messaggio importante per le giovani generazioni. Noi siamo a loro disposizione sia avvocati e magistrati come responsabili di questioni giudiziarie sia le forze dell'ordine. A voi il ringraziamento per aver preso parte a questa manifestazione e per averla pubblicizzata nel miglior modo. Grazie.